Leon Scipos, sono già quattro i tuoi gol con la maglia del Catania, sei contento del tuo rendimento fin qui? Sì, sono molto contento perché ho fatto un gol, sono molto contento perché noi abbiamo giocato molto bene, è importante prendere un punto, ogni punto è importante per noi, grazie alla mia squadra, grazie al mister, sono molto contento e vorrei rimanere in questa squadra perché mi piace la squadra, mi piace l'atmosfera, mi piace la città e la cucina siciliana. Oggi è stata una partita molto dura su un campo difficile. Sì, il campo era duro e questa partita è molto difficile perché è il derby con Messina, la partita tra Catania e Messina è sempre difficile, il campo è duro anche, ma ogni punto è importante e noi prendere un punto. Mister Baldini dice che è sempre molto importante il contributo di chi entra nel corso della partita e tu ti sei fatto trovare pronto l'azione della traversa, poi insomma anche il gol, sei riuscito ad entrare bene in partita. Sì, io ho sempre, io sempre do tutto, tutto, tutta la mia squadra e nel campo. Io sono molto contento con il mister e il mister che mi piace. Ti dà una grande occasione. Per finire c'è ancora una partita in questo 2021 mercoledì contro il Monopoli, che ne pensi? Sì, ora pensiamo a mercoledì a Monopoli, noi vogliamo tre punti, vogliamo vittoria e ora pensiamo a Monopoli e è questo.